Il sistema Italia è una ruota quadrata che non gira, avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Ma lo si era visto così bene durante quest'anno eccezionale, sotto i colpi dell'epidemia. Lo evidenzia il 54esimo rapporto Censis. Il virus ha colpito una società già stanca, si rileva. Quest'anno però siamo stati incapaci di visione e il sentiero di crescita prospettato si prefigura come un modesto calpestio di annunci. Già troppe volte pronunciati. Un sentiero di bassa valle, più che un'alta via. Il rapporto rivela inoltre che quasi l'80% degli italiani si dice a favore della stretta in vista delle prossime festività, in vista del Natale e del Capodanno. Si legge che il 79,8% degli italiani chiede di non allentare le restrizioni o di inasprirle. Il 54% spenderà di meno per i regali da mettere sotto l'albero, mentre il 59,6% taglierà le spese per il cenone dell'ultimo dell'anno. Per il 61,6% la festa di Capodanno sarà triste e rassegnata. Non andrà tutto bene. Il 44% degli italiani è convinto che usciremo peggiori dalla pandemia. Inoltre il 90% è convinto che l'emergenza coronavirus e il lockdown hanno danneggiato maggiormente le persone più vulnerabili, ampliando le disuguaglianze sociali già esistenti. Se da un lato, da marzo a settembre 2020, ci sono 582.000 individui in più che vivono nelle famiglie, che percepiscono un sussidio di cittadinanza, dall'altro 1.496.000 individui hanno una ricchezza che supera il milione di dollari. Di questi, 40 sono miliardari e sono aumentati sia in numero che in patrimonio durante la prima ondata dell'epidemia. Secondo il Censys, poi, l'esperimento della didattica a distanza durante la pandemia sembra non aver funzionato adeguatamente. Grazie a tutti.